Quando chi ha una responsabilità pubblica si adagia in questo motto, non è giusto quel che è giusto ma è giusto quel che piace, allora quel che piace rischia di essere inteso e valutato anche come ciò che è giusto. Però resta un punto, me ne parlò molti anni fa un grande poeta italiano che è stato in odore di Nobel della letteratura per molti anni, è morto a novantenne e si chiamava Luzzi, grande poeta, scrisse in età molto vecchia, quasi novantenne, un verso che è questo. La libertà è una palestra dove bisogna andare ogni giorno perché altrimenti deperisce. Ecco in questa palestra bisogna che ci vadano a cominciare dai ragazzini alle ragazzine, agli adolescenti, ai giovani e soprattutto loro perché ciò che hanno non è un dato acquisito per la vita intera, bisogna innaffiarlo tutti i giorni e non è una forma retorica, la libertà è davvero così. O la innaffi o altrimenti ti svegli una mattina e non ce l'hai più di fronte.